La sua caratteristica non era proprio di una meningite, in termine classico come si intende la meningite con l'infezione solamente celebrale, ma qualcosa di molto più grave, che è una shock fulminante da meningococco. Non c'erano purtroppo speranze per salvare la giovane di 31 anni del Valdarno colpita da una meningite batterica da meningococco di tipo C. La ragazza è morta dopo due giorni il suo arrivo all'ospedale del Valdarno della Gruccia. Dall'inizio dell'anno, in tutta la Toscana, quello della 31enne è il quarto caso di meningite mortale. Gli ultimi casi sono stati quattro casi, quattro casi di shock settico da meningococco, fulminanti. Poi ci sono stati 17 casi, se non sbaglio, quindi direi un cluster non preoccupante dal punto di vista per la popolazione, ma sicuramente con un'incidenza che è stata superiore a quella che attualmente, che normalmente si vede annuale. Cosa si può fare? Prima di tutto coloro che sono eventualmente venuti a contatto con questa ragazza e poi, come lei ben sa, ci sono vaccini, alcuni obbligatori, altri no. Però, insomma, che consiglio si può dare? La vaccinazione, secondo me, è sempre raccomandabile. Tutti noi ci vacciniamo sempre, dal virus influenzale a tutte le possibilità, perché in realtà la prevenzione è l'arma migliore. Per quanto riguarda il contatto, è evidente che nel contatto diretto sono raccomandate una profilassi, ma chi ha avuto veramente un contatto diretto con questi soggetti. Diretto vuol dire una vicinanza, perché la malattia si trasmette soprattutto con le goccioline che escono dal nostro respirato, o con un contatto diretto con il paziente. Quindi solamente in quei casi lì è prevista di fare una profilassi, semplicemente con due compressine di ciproxin. Questa ragazza lavorava in un negozio, i clienti si devono preoccupare o no? Secondo me no, a questo punto qui no, anche perché i tempi sono superiori a quelli della incubazione, quindi dell'espressione della malattia, quindi a questo punto qui non vedrei nessun motivo per preoccuparsi. Non ci sono altri casi per cui possiamo pensare che nessuno sia stato contagiato.